Io vorrei dire che io non faccio niente privatamente, solo pubblicamente, davanti a tutti, sotto gli occhi di tutti. Esatto, quello che dico io Maria, ci mette la faccia, tu non ce la metti, ti nascondi dietro una faccia, tu sei una leone di parchiata. Vabbè, dovrei chiudere comunque per far capire il discorso. Sì, sì. Ernesto l'ha fatto pubblicamente per aizzare i suoi followers contro di me, io non voglio aizzare nessuno, io volevo un parere, io ho risposto. Secondo me i tre cervelletti non ha funzionato, perché vedete che non informano neanche uno. Io vorrei aprire il suo Instagram e vedere. Sì, però, scusami. Ah, io non rispondo a nessuno, mi dispiace. Ho una sola curiosità, quindi Barbara risponde privatamente a persone che poi girano la sua risposta a te, Cristina. Tu pensa, tu pensa. Tu pensa, quindi rispondi a tutti, capito? Quindi non fai le nostre lezioni. Ma allora, se io sono qua, vuol dire che sei molto attiva, e le persone che vedi anche qua hanno il tempo e la voglia di scrivermi. Anch'io rispondo, è doveroso che io dia risposta. Non che parlano di te. Le persone che parlano di te, io non rispondo. Hai capito, Barbara? Grazie. È doveroso che ti risponda. Perché se io sono qua, e ho una certa... Tutte cose che chiedono di te, anch'io rispondo. Hai capito, Barbara? E allora... Parli degli altri, a me non sbarlo. A me senti chiedono di te, io non rispondo. Ho risposto. Hai capito? Perché ho qualcosa da dirti, lo dico qua, non lo dico in chat. Allora, se mi chiedono cosa... Io rispondo alle persone che chiedono di Cristina, e io rispondo a tutti. Io rispondo alle persone che chiedono di te, anch'io rispondo a tutti.